Parliamo della vicenda dell'installazione contestata di impianti eolici al confine tra Campania e Molise. Una delegazione della rete dei comitati di tutela ambientale del Molise ieri ha incontrato il senatore Giuseppe Lumia per consegnargli un dossier. Il senatore si è impegnato a presentare un'interrogazione al governo a tutela del sito archeologico di Sepino Altiglia.